un gabbiano imbrattato di petrolio riesce a volare fino ad hamburgo e viene qui trovato dal gatto zorbas il gatto nero promette al gabbiano di prendersi cura del suo uovo e del pulcino che ne verrà fuori gli fa tre promesse non lo mangerà si prenderà cura dell'uovo fin che il pulcino non ne esce e gli insegnerà addirittura a volare con l'aiuto degli altri gatti del porto zorbas protegge il pulcino ma a fortunada appunto il pulcino non è in grado di imparare a volare gli altri animali permettono a zorba di chiedere aiuto agli umani il gatto sceglie un poeta e lui e il poeta decidono di portare a fortunada la chiesa di san michele dove il gabbiano impara finalmente a volare